Grazie a tutti Il seminario di oggi è organizzato da Scienze Indipendenti, un'organizzazione di studenti presente nella Facoltà di Scienze. Questo seminario è aperto a tutti gli studenti dell'Ateneo e è qua per trattare i temi del software, in particolare parlando delle opportunità che si trovano in questo campo, quindi parlare di open source, ma parlare anche di software proprietario, in modo peculiar, cioè in modo legato a quelle che sono le esigenze dell'Ateneo di Bologna. Sono qua con me il professor Renzo Davoli, professore associato dell'Università di Bologna, direttore del master in tecnologia del software libero ed open source, nonché docente di sistemi operativi al Dipartimento di Scienze di Informazione, e per Paolo Boccadamo, direttore delle strategie di piattaforme di Microsoft Italia. Aprirei il dibattito facendo una domanda al professor Davoli, un po' per introdurre il discorso, perché se tutti più o meno hanno familiarità con il software Microsoft, forse meno di voi hanno familiarità con quello che è il software, rispetto open source sulle sue implicazioni. Quindi chiederei al professor Davoli che ci può spiegare un po' cosa rappresenta dal punto di vista economico, pratico, di sviluppo, ma anche dal punto di vista proprio filosofico il software libero. Qual è la differenza con quello che è comunemente definito il software, cioè quello proprietario? Allora, dal docente incomincio subito a richiamarlo, perché è propriamente definito il software quello proprietario, è stata un'uscita non perfetta, perché in principio il software è libero, potrai ci dare la Bibbia. Prima di tutto, incominciamo a intenderci bene su che cos'è l'informatica, perché questa materia è destruttata. L'informatica è una scienza, non è una tecnica, l'informatica studia come produrre informazioni in modo automatico, l'informatica ha tre problemi fondamentali, che sono quello di trasformare il dato in informazione grezza, in dato raffinato, in informazione utile, l'informazione è ciò che serve al pensiero umano, la comunicazione e la memorizzazione, cioè come trasportare il dato nello spazio e nel tempo. Per fare questo dobbiamo parlare dei linguaggi, dobbiamo essere capaci di avere capacità comunicativa, algoritmica, l'algoritmo. L'algoritmo è una sequenza di passi svolta alla risoluzione di un problema, è un processo mentale, l'algoritmo non ha nulla a che fare con i calcolatori, questi pochi se ne rendono conto. Per esempio, se io scrivo play 881, play 880 per 2 alla 2 dodicesimi 1, la stessa cosa, 2 alla 4 dodicesimi 1, 880 per 2 alla 2 dodicesimi 1, e questo ne faccio un ciclo per due volte fra manchino. perché la frequenza ho dotato, ho sposto di un tono, di due toni, e poi, scusate, torno, ho fatto un bugger, torno a 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 torno. Ok. Questa è l'informazione. Questo è un programma, questo è un algoritmo. quindi a questo punto dobbiamo metterci d'accordo su che cosa è il software e che cosa è l'argo come sapete la definizione una volta ne davo una diciamo molto intuitiva diciamo, le conoscete quando non funzionano l'argo lo potete prendere a calcio contro il software potete solo imprecare invece oggi ne ho una molto più pregliante ed è questa se io ho un pezzo di hardware e ve lo do alla fine chi ha l'argo? voi se io ho un pezzo di software e ve lo do alla fine chi ha il software? tutti e due e questa è la differenza fondamentale stiamo parlando di pensiero stiamo parlando mi ha detto di essere filosofico stiamo parlando della differenza della differenza fra spirito e materia e qui andiamo veramente sulla filosofia lo spirito la conoscenza e se io adesso ora faccio un mezzo di rete scrivo mi illumino immenso grazie a Dio io ho deciso di non prendere la divina come l'intera ma quello potevo questo no perché Ungaretti è morto nel 1970 adesso qua c'è l'attenuante perché è a scopo didattico così ma io ho appena trasferito del software perché il software non è semplicemente programma il software è musica è film è qualsiasi conoscenza allora il software come deve essere qual è il diritto fondamentale che abbiamo il diritto fondamentale che abbiamo è la libertà di informazione è il diritto fondamentale che io posso ancora grazie a Cero venire in aula universitaria e insegnarmi ogni conoscenza e voi venite qua ad apprenderla quindi se vogliamo fare la differenza possiamo dire che da un lato che è il software libero che ci dà tante libertà la definizione viene data in base alla definizione di Richard Thoman che dà le quattro libertà libertà di usare per ogni motivo il vostro programma libertà di riprodurre libertà di modificare libertà di divulgare la forma modificata come volete e all'inizio a questo dopo è arrivato il software open source che in realtà coincide come definizione tanto è vero che le licenze oggi che sono free software open source hanno intersezione praticamente completa ma vedrete parlare con aziende di libertà un certo di un'azienda parlo un amministratore di ricardo gli dite libertà e dice cosa ci vuole è ancora libertà invece quando gli ha dato a parlare di cose operative può capire meglio i vantaggi che ha quindi Perns ha preso la definizione di free software la trasformata in modo operativo e ha dato la definizione di open source attenzione attenzione mentre grandi aziende hanno studi per fare grandi mani pubblicitari con parole mirate noi poverazzi che vediamo solo libertà usiamo spesso le parole sbagliate quindi free molto spesso confuso con gratuito non c'entra niente parliamo di libero e open source non c'entra niente con il file sorgente file eseguibile vuol dire che ho potuto studiare modificare è un effetto collaterale che avete anche degli sorgenti quindi software libero avete libertà di usarlo contro la costruzione del software proprietario avete la libertà dal fornitore quindi potete avete la possibilità di farlo modificare in altri se il fornitore non vi avrete più non vi va più bene contro la costruzione avete ancora la libertà contro il condizionamento perché una volta che avete un certo software vi condiziona a usare quel software a usare quei formati condizioni e rapporti con gli altri interlocutori ad usare quel software che magari associato a un software proprietario ci sono dei formati proprietari vi ricordate i tre problemi elaborazione memorizzazione comunicazione i linguaggi si chiamano linguaggi di programmazione per l'elaborazione formati di dato per la memorizzazione protocolli di comunicazione per la comunicazione quindi il formato di dato crea questo effetto di rete con il software libero mi piace più chiamarlo cos'è che open source ma è la stessa cosa avete potete conoscere chi ha fatto il programma quindi avete contatto con persone fisiche non muri di gomma di istituzioni di aziende che possono darvi assistenza a quello che volete ma non avete mai contatto tra l'altro dall'altra parte i programmatori sono ricompensati da avere la propria opera a proprio nome mentre nell'altro caso l'opera compare con il nome dell'azienda avete la conoscenza ora se il software è un videogioco non avete sa nulla della conoscenza se non funziona correttamente non ci perdete nulla ma se affidate al software cose fondamentali il vostro pensiero la vostra privacy il voto elettorale cose fondamentali per la vostra libertà ebbene che sappiate esattamente come funziona io faccio sempre questo esempio io non sono in grado di leggere il bugiardino sapete cos'è il bugiardino? è quel foglietto che mettono nei medicinali io non sono in grado però io un medicinale privo di composizione privo di bugiardino non lo comprerei perché se mi fa male da chi vado come faccio a farmi dire perché mi ha fatto male devo avere una cieca e assoluta fiducia nella casa farmaceutica un'altra differenza è che se un software è libero vi piace e lo volete modificare e lo volete seguire siete protagonisti con software proprietario siete solo spettatori dovete prenderlo e usarlo così com'è l'altro discorso sicurezza dopo comunque a chi venissero dei dubbi software libero funziona non è un gioco per appassionati tutte le volte che voi fate una ricerca in google google è un enorme cluster di macchine che funzionano grazie a software libero e quindi anche una piattaforma che a quanto pare è affidabile è usata in larga scala grazie la domanda che vorrei fare per Paolo Lucadamo è un po' più pratica tutti noi o comunque gran parte di noi sappiamo che il software libero sta iniziando a prendere piede esistono sistemi operativi open source esistono applicativi open source si può dire che per ogni applicativo commercializzato tramite software proprietario tramite vendita di una licenza pagamento di una licenza esiste un controparto per source ciò nonostante come si vede la maggior parte dei computer usa e la maggior parte degli utenti usa invece il software proprietario molto spesso il software microsoft ci vuole un po' parlare di quali sono i vantaggi qual è la forza del software proprietario di questo se vogliamo il sistema di commercializzazione di sviluppo di un prodotto ciao a tutti la domanda è abbastanza puntuale però parte da uno scenario che è stato predisposto dal professore lui è un docente quindi io non ho questo blasfetto sono stato solo uno sviluppatore di software da quando avevo 14 anni facevo videogiochi evidentemente non sono abbastanza significativi però sono un buon modo per imparare lo sviluppo del software parlo del 1979 80 per cui le piattaforme erano abbastanza limitate ed erano un buon esercizio voglio dire per sviluppare metodologie algoritmi e soprattutto tecniche di ingegnerizzazione del prodotto finale attraverso i vari stadi che portano alla definizione di un software e questo già è quello che vi ho raccontato è algoritmi istruzioni metodologie per metterli assieme ingegnerizzazione testing messi in produzione correzione come vedete io non sono purtroppo vorrevo un attimo dare la visione perché poi la risposta alla domanda arriva come una conseguenza va bene se vuole allargare il discorso la definizione vuole dire di software uguale a conoscenza onestamente a mio avviso non è propria onestamente anche ho letto spesso vuole dire ciò che il professor Davoli ha prodotto e lui stesso credo che non definisca limitativamente il software uguale a conoscenza perché è estremamente fuorviante è chiaro che se voglio dire un verso di Ungaretti o di qualunque altro poeta o delle note io sono musicista per cui la tematica voglio dire della diffusione della conoscenza e dei diritti sulla conoscenza alla diffusione mi è abbastanza cara sarebbe veramente un estremamente fuorviante software è un insieme come diceva il professore di istruzioni di algoritmi di conoscenza applicata attraverso delle metodologie che alla fine producono uno strumento che è magico perché a differenza degli strumenti fisici ha praticamente la possibilità di essere rapidamente modificata di essere anche in molti casi sviluppata a costi diversi da quello che normalmente spesso inferiori da quello che rappresenterebbero i costi per qualcosa che è tattile negli anni poi si è visto che per sviluppare software sempre più complesso che risolve problemi sempre più complessi serve l'ingegno e l'applicazione in tempo di ora uomo di moltissime persone perché i problemi da risolvere che vogliamo risolvere quelli più vicini al modo di pensare dell'uomo e i nostri comportamenti e le nostre esigenze sono sempre più articolati e complicati per cui non è iniziare a dire che il software è uguale a conoscenza da qui derivare il paradigma che sostenga il free software insomma è un pochino mi avviso fuorbiante però l'approfondimento lo lascio a voi provate poi a andare a guardare perché ho sollevato questo punto un altro tema fondamentale io sono arrivato qua ho visto questo titolo non mi ci sono trovato non era quello con cui sono stato voglio dire mi è stato chiesto di venire a partecipare niente di grande nel senso che io credo che non ci sia il problema del confronto binario come viene adesso qua tipo una partita di tennis o di calcio fra un modello di sviluppo quale è fondamentalmente l'open source che non è il free software adesso vi vado a dire cioè io credo che il professore se dalle parole che ha detto oggi lui sembra essere d'accordo con il new storm che come sapete è stata la persona che fra i vari ha contribuito al sviluppo del movimento dell'open source software mentre Stolman è totalmente in disaccordo con il new storm questo è un dato di fatto diciamo che il mio lavoro è fondamentalmente lavorare con il mondo dell'open source e con il mondo di business alternativi a quelli del software commerciale free software è anche una filosofia voglio dire quando è nata concettualmente è una filosofia del pensiero della condivisione della conoscenza chiaramente applicata attraverso quello che è il mondo dell'ingegneria del software del software dicendo io credo su questo non ci sia ma open source se voi anche su questo andate per favore a guardare le definizioni che danno Torval e altri a mio avviso open source software che è il spazio di cui tranquillamente il professore forse non sa che io faccio parte di un gruppo di cui la maggior parte dei miei colleghi arrivano dal mondo del software sono stati fra i principali artefici del software open source software è fondamentalmente uno spazio in cui sono stati definiti dei modelli di sviluppo dei modelli di condivisione delle metodologie attraverso le quali vengono open source software anche delle licenze ovvero delle sorte di oggi mi hanno chiesto che pronome liberatori ai contenuti infimati quindi qualcosa che formalmente permettesse di evitare discussioni sulla fruibilità del prodotto finale in termini legali ovvero delle liberatori delle licenze cioè di diritti su qualcosa che era stato oggetto di ingegno applicato da parte di uno di più persone open source è un movimento che vuol dire spinge evidentemente anche l'adozione da parte di aziende di software creati con determinate modalità ma non è stretto io non ci riconosco esattamente l'equazione che software riguarda l'open source software e anche in questo vi dico lascerei a voi quell' approfondimento il software commerciale così definito commerciale proprietario è una sintesi per indicare un modello economico che appartiene concettualmente all'economia del libero mercato ok poi che ci piacciono o no io sto parlando in funzione di quello che è il modello economico di cui che la nostra nazione è mediamente adottato almeno da quando io sono nato è un modo per indicare una formula di investimento creazione di un qualcosa che può essere un oggetto fisico un oggetto invece non fisico qual è il software e di ottenere un ritorno su quell'investimento per continuare a poter produrre da una parte innovazione e sviluppare qualcos'altro in futuro e dall'altra quindi mantenendo attive delle associazioni di persone che stanno promuovendo evidentemente quella tipologia di prodotti e dall'altra anche di produrre profitti su questo voglio dire il giudizio etico o meno di questa faccenda non compete né a me voglio dire e non credo neanche che sia l'oggetto di questa discussione per cui semplicemente il software commerciale indica un'impresa che viene creata da uno o più persone nella quale si mettono delle risorse di natura umane e economica si investe e si ottiene un ritorno quindi un riconoscimento di natura economica rispetto al pezzo al prodotto finale che si chiama software e basta o quantomeno ci può essere la soluzione e il software e basta il motivo che mi viene riconosciuto economicamente dal mercato ovvero non propongo servizi perché un altro modo per esempio per veicolare il software ovvero io spendo dei soldi per produrre del software e lo metto sul mercato poi posso perpetrare le mie attività attraverso il fatto che il software non te lo faccio pagare ma ti espongo per esempio della pubblicità google è il classico è il modello per definizione di questo tipo di modello di business quindi stiamo parlando di modelli di business non ci stiamo confrontando rispetto a un modello di sviluppo non ci stiamo neanche confrontando sul piede delle idee se è più corretto che la conoscenza si diffonda applicata da un modo piuttosto che un muto ok per cui quando definiamo che vantaggi può avere un modello economico adesso altri modelli economici più diffusi soprattutto nell'economia dell'open source in quella che si spera potrà essere un'economia sostenibile basata su un modello di sviluppo software open source la fonte di reddito sono normalmente i servizi servizi si intende da servizi di consulenza per comprendere come personalizzare rispetto alle tue esigenze attenzione qua si parla da ok cambiare la maschera magari mettere due campi a installazioni complicatissime che prevedono comprendere i processi di un'azienda adottare meccanismi di modifica di questi processi formare le persone anche banalmente banalmente in senso stretto non per rivelanza di contenuto scrivere un libro su un software che io ho in quel tempo prodotto e poi alimentare i futuri investimenti o altri investimenti attraverso il ritorno di questi libri per cui il software proprietario è fondamentalmente il software derivato da un modello di impresa che investe e ottiene un ritorno rispetto veramente alla commercializzazione di quel prodotto capite che in questo contesto assume rilevanza la tutela di una parte di questi investimenti che guarda caso nel caso del software sono di natura intellettuale quando si parla di arbori io posso in un certo modo delimitare la diffusione incontrollata e quindi la perdita di valore degli investimenti nel caso del software è molto diciamo così veloce come di tutta la proprietà intellettuale la possibilità di perdere il controllo della tua fonte di mantenimento questo è il punto per cui negli ultimi 30 anni l'industria del software nel mondo si è fondamentalmente sviluppata intorno a un modello economico qual è l'ultimo che vi ho appena descritto cioè quello basato su quello che intendiamo modello del software proprietario ci sono state altre tentative di economie differenti ce n'è uno in corso che si chiama open source che è una rivistazione sfruttando ciò che esiste oggi che non esisteva tanto tempo fa internet in particolare che dà la possibilità di coordinare persone voglio dire in maniera molto più facile che in passato di avere un modello sostenibile fondamentalmente basato sui servizi perché questo è quello che se pensiamo voglio dire è un modello di poi sostentamento di questa economia negli ultimi 30 anni dicevo il software proprietario ha generato quello che abbiamo visto il modello di software proprietario con tutte le limitazioni del caso e tenete conto che il modello è il corso di sviluppo perché esigenze che nel frattempo sono sorte anche in contesti come con l'academia che ne parleremo dopo hanno comportato delle revisioni del modello software open source come economia vedremo dove porterà si sente bene al professor Davoli farei la seguente domanda siccome si è anche introdotto il discorso dei costi e dei modelli di sviluppo e siccome noi l'attenzione di questo seminario dovremmo tenere soprattutto sull'utilizzo del software all'interno dell'università quindi di un'amministrazione pubblica quindi in un contesto dove il costo è un fattore fondamentale e vorremmo chiedere al professore il software open source che è così liberamente scaricabile riproducibile per il quale non è richiesto il pagamento di alcuna licenza il software open source quali costi ha? quali sono i costi di gestione di installazione di creazione di questo software? allora partiamo dai costi poi da richiamo il discorso comunque sono perfettamente convinto di quello che ho detto e non ho alcuna nulla che mi mi sposta dal pensare che il software sia conoscenza anche io ho sviluppato il software da tanto circa dal 1975 ho cominciato a programmare macchine a nucleo di ferrite e sprogrammato solo in assenza e costi dobbiamo dividere i costi buoni dai costi cattivi software intanto devo dire che ci sono state delle parole che non sono state coerenti con il pensiero diciamo software proprietario e proprietario basta non è commerciale commerciale è tutto il software libero è commerciale c'è gente che fa business con il software libero vende servizi e allora non fa commercio non fa e allora campa sbacchi lunario facendo operazioni commerciali con software libero vende servizi quali sono i costi buoni e quali sono i costi cattivi i costi cattivi sono la riscoperta dall'acqua calda pagare tanti programmatori per fare ciò che ha fatto ciò che hanno fatto altri Microsoft lo conosce bene perché qualcuno aveva fatto Microsoft 10 hanno dovuto fare aero qualcuno aveva fatto metodi di ricerca sui file hanno dovuto fare metodi di ricerca sui file qualcuno ha fatto ne potrei continuare una scacchiera con traslucita hanno fatto una scacchiera traslucita non il pagamento infinite volte della stessa conoscenza questi sono i costi cattivi se io genero conoscenza io prendiamo qualsiasi altro campo dove si genera conoscenza sono un avvocato ho fatto un'arminga in cui ho sfruttato quel camillo legale scusate mi scappo come sono figo a questo punto la gente viene da me perché ha scoperto che io sono un avvocato in gamba questo è il mercato delle cose territoriali poi i costi sono i costi di ignoranza i costi di ignoranza se non si sa come sono fatte le cose quelle cose hanno un sacco pensate quanto vi costerebbe fare un integrale multiplo se non avessi il teorema di Fubini e Tonelli dovreste prima scoprire il teorema di Fubini e Tonelli e poi sareste in grado di fare l'integrale multiplo qui siamo davanti a un discorso notevole qualsiasi valore diverso da zero dato allo spirito fa in modo che vinca completamente un'altra forma di mercato e qui io ci tengo non è un confronto è uno scontro investimenti se prendete software libero gli investimenti non vanno l'oceano immediatamente come lecente d'uso perché avete comprato una macchina e siete stati obbligati praticamente se non legalmente abbiamo praticamente a comprare anche se non volevate un sistema operativo rimangono note perché se dovete fare della consulenza della customizzazione e quindi questo genera poi neanche costi il doppio software open source ci avete guadagnato perché avete lasciato gli investimenti locali quegli investimenti generano ricchezza del paese generano know how competitività quella parola chiave se vi mettete in campo se avete delle idee valide fate come l'avvocato fate dei programmi in gara tutti lo usano vengono da voi perché usano quei programmi vedono che siete bravi venete in servizio di consulenza siete sempre a passo con i tempi e generate libera concorrenza cosa che con i mercati chiusi non c'è questa è la libera concorrenza non quella e pensate al 36% delle opere edili che lo Stato dà a fondo perduto non è un costo totale per lo Stato non è un costo assoluto ci si guadagna perché si fa lavorare persone sul territorio si torna indietro attività aziendale qui Italia sul luogo e quanto costa il software proprietario perché pensiamoci bene se vi dicevo adesso cambiare tra software proprietario e software libero costa un sacco penso all'esperienza che stiamo facendo con enti pubblici forse un giorno spero con l'università ma di che sono quei costi si chiamano costi di uscita e quei costi vanno imputati al software compiato all'ora perché vuol dire che quel software se costa a cambiarlo non aveva dei formati dei metodi che consentisse di essere cambiati quindi vuol dire lock in vuol dire che quel software ha bloccato a mantenere l'utilizzo del software stesso pensiamo ad esempio al costo del millennium bug quanto c'è costato il millennium bug se il millennium bug l'avesse fatto una società dell'intero colonese che ha sbagliato ha scritto un programma non pensando che esisteva l'anno 2000 ci sarebbero state schiere di avvocati pronti a dire hai sbagliato paga siccome è stato fatto da un edito un po' più grande è diventato un fenomeno sociale una cosa che appariva appariva diversa da quella che era e l'abbiamo dovuto pagare tutti ma così posso citarmi tanti di costi i costi dei virus e degli antivirus com'è che io non ho mai posseduto uno e velo sereno perché ho la responsabilità dei lavoratori di informatica 2800 account persone smanettoni che lavorano tutti i giorni non c'è mai stato un antivirus e non ho mai un antivirus perché macOS 10 per non dire proprio il software libero macOS 10 è uscito già da anni e la capacità la la diciamo la il numero di virus riscontrati sono molto inferiori vediamo di chiarire bene concetti perché le parole hanno un peso e io credo molto al peso delle parole vi ho detto concorrenza deve aver mancato adesso me ne dico una grossa la proprietà intellettuale non esiste non esiste chi vi parla di proprietà intellettuale sta barando al gioco è il più grande atto di piraterie linguistiche abbiamo parlato di spirito e materia la materia voi pensate alla proprietà o la mia macchina la mia casa ok e quello è un diritto forte esistono alcune eccezioni del diritto che si chiamano per esempio musucapione es proprio per causa di pubblico utilità perché perché avete delle cose materiali e invece per le cose intellettuali qual è il diritto la libertà intellettuale quindi chi parla con cognizione di causa chi non vi vuole prendere in giro parla di eccezioni al diritto di libertà intellettuale che esistono per vulnerare chi fa qualcosa ma io penso sempre pensiamo se fossi un marziano piombato sulla terra e vedo la situazione delle cose ci sarebbero delle cose che non riuscirei a comprendere tipo perché tutti ti trovano normale ti spegnere una macchina e spingere il tasso start ma questa è una questione secondaria ma la questione principale che non capisco è tutti mi dicono che la tecnologia avanza sempre a ritmi più elevati sempre che tutto succede a ritmi più sostenuti che il progresso ha sempre bisogno di tempi più brevi i tempi e le multinazionali chiedono che il diritto dottore abbia tempi sempre più lunghi da 25 a 50 a 70 anni ora e chiedono sempre dei vincoli più forti sui brevetti 20 anni 20 anni sui brevetti avete idea di cos'era l'informatica 20 anni fa? se voi in qualche campo mettete 20 anni di fermo di ricerca è perché fermo di ricerca? voi pensate che uno che ha un monopolio su un determinato campo vada a investire per farne dei nuovi no no per lui è un costo vuole sfruttare fino in fondo il suo primato ok? allora copiare non è reato non è peccato non fa neanche diventare ciechi ve lo assicuro io anzi voi dovete copiare ma copiate le cose giuste non vi dico di copiare le cose che hanno delle licenze che perché sarebbe immorale reato è reato però quello è un discorso che dobbiamo fare non con voi ma con chi quando andiamo alle urne a votare con i nostri politici ma se copiate contenuti liberi che ne so musica da Yamendo roba da YouTube contenuti con creative software libero come fanno i pittori diventare pittori all'accademia vanno ai musei e copiano ma d'altronde è arrivato è arrivato Lisa con le finestre l'aveva copiato da Xerox Park è arrivato Windows tutti copri perché stiamo parlando di cose che hanno valore si dice costo marginale nullo cioè quello che vi dicevo prima se io la conoscenza ve la do dopo ce l'abbiamo in due e sono sicuro che sono molti spunti che sono continuati dal professore che magari verranno ripresi in seguito però vorrei portare un attimo la discussione su quello che è poi il campo di interesse che è l'università di Bologna sappiamo che Microsoft fa una forte collaborazione con la nostra università e che molte infrastrutture informatiche sono state create ma forse lei è un po' tradire di più sono state create e vengono gestite da Microsoft qua sono anche che queste collaborazioni esistono anche con altre università in Italia o al centro di biotecnologie di Trento il centro all'avanguardia e in più anche la politica di licenze scontate o gratuite nei confronti degli studenti universitari quindi pregherei per Paolo Boccadamo di illustrarci un po' la politica di Microsoft della ricerca accademica in generale l'università e l'università di Bologna in particolare ok allora io adesso continuo a mantenere il cappello perché la domanda lo richiede di persona che la presenta Microsoft sinceramente avrei preferito potermelo togliere perché come persona come voi come cittadino di questa nazione però che è stato negli ultimi 20 anni a pregunte al minimo del sviluppo software e anche della commercializzazione software poi studiata economia o malare in economia guarda caso su modelli di sviluppo economico e software che comunque io seguo ancora perché ci sono tutta una serie di punti del professore sul intervento sui quali personalmente non mi trovo d'accordo e che reputo dovrebbero essere quantomeno oggetto di una valutazione da parte di chi ascolta da differenti punti di vista però visto che la domanda è specifica su Microsoft io adesso risponderò a questa domanda per correttezza del mio considero dopodiché se volete vi potrò dire che cosa penso di quasi tutti i punti che ha trattato dove li vedo limitati nell'espressione non sto dicendo che non siano corretti sono corretti secondo un punto di vista però sono limitati rispetto al mondo a cui apparteniamo e a cui stanno andando le cose rispetto quindi a ciò che un'azienda che si chiama Microsoft sta facendo con l'Università di Bologna perché questo poi è una delle aziende che vivono secondo me di software commerciale all'Università di Bologna io ho iniziato a collaborare con voi in una divisione che aveva dei rapporti si chiama Microsoft Consulting quindi offre consulenza quando circa 12-13 anni fa ci stavano occupando con voi di alcuni corsi specifici sulle piattaforme che Microsoft stava creando stava iniziando a creare in maniera diciamo credibile per il mondo dell'impresa Unix come sappiamo era la base voglio dire Unix altri linguaggi un po' più tradizionali se così li posso definire Pascal o altre cose del genere per quanto validi erano la base dei corsi universitari quindi abbiamo iniziato a collaborare e la collaborazione normalmente di un'azienda come Microsoft perché è un'azienda di software cui non facciamo servizi eccetera ma abbiamo di software e nel cercare di offrire a un'università know-how e strumenti per poter eventualmente produrre insegnamento ed esperienza rispetto a queste tecnologie normalmente le tecnologie voglio dire cioè gli strumenti che si adottano e quindi anche i corsi da quello che ho imparato sono figli o di orientamenti specifici che un'università vuol dare alla propria audience ai propri affini ne fruisce oppure perché le università si sono più avvicinate al mondo dell'impresa per cui si cerca di trasferire qualcosa che poi l'impresa chiede in quel momento storico eravamo qualcosa che stava entrando nel mondo dell'impresa e quindi abbiamo iniziato a offrire software con delle modalità che non erano ancora ben definite quindi lo davamo in maniera cioè proprio trasferivamo assegnavamo all'università del software per creare primi laboratori di didattica in maniera tale che i docenti e i loro collaboratori potessero sviluppare i corsi e iniziano a farvi le esperienze di studente oggi chiaramente dopo tantissimi anni la Microsoft nel mondo ha cercato di capire e continua a cercare di capire come sviluppare questo rapporto non voglio esprimervi il concetto molto cinico che ho sentito esporre qualche volta anche da colleghi per il mondo però in realtà se ci pensate su come funziona il mondo che bisogna investire nell'università perché le università ovviamente poi sono il futuro del mondo del lavoro nell'economia di libero mercato chi lavora poi produce ricchezza reddito da investire o meno a livello personale e quindi è importante offrire investire questo è il termine sull'università per fornire gli strumenti che poi potranno essere quelli utilizzati in futuro non è questo secondo me il punto di partenza ma è semplicemente offrire la possibilità di vedere che cosa il mondo della tecnologia in questo caso del software rende disponibile sul mercato abbiamo potuto sviluppare anche delle forme di trasferimento di ciò che normalmente viene remunerato economicamente visto che abbiamo parlato da una società che è il software queste forme la più importante è un contratto che normalmente facciamo con l'università si chiama Campus Agreement è una modalità verso la quale a un prezzo che si paga una tantum ogni anno a un canno a un filo non so per i laboratori o per i momenti specifici di didattica di questo si può dare la possibilità agli studenti di scaricare il software dei nostri siti il software originale completo per l'uso a casa in più siccome non esistono solo le università e non tutte le università siglano questi accordi per ragioni di varia natura come mi sembra il momento di discutere in genere per la scuola ci sono poi dei programmi a basso costo delle licenze quindi dei modi di accessare il software completo cioè non modificato in versione ridotte a delle forme particolarmente agevolate dal punto di vista economico oggi per darvi un'idea office per lo studente universitario microsoft office quindi lo strumento completo costa 77 euro detto questo scusa perso il colpo va bene nel aspetto invece di collaborazione con altri ambiti dell'università che secondo me sono quelli più importanti in questo momento abbiamo una collaborazione prima di tutto la tecnologia microsoft in università non è gestita da microsoft questo è soltanto magari è stato solo un un type ma viene gestita dall'ambiente universitario dai suoi collaboratori sono delle società esterne normalmente che collaborano con noi noi offriamo solo la tecnologia o vendiamo tecnologia da un punto di vista di progetti che stiamo sviluppando insieme a livello dell'università di Bologna ci sono dei progetti di collaborazione sull'e-learning nell'ambito del progetto regionale di Emilia Romagna con laboratori in questo momento in particolare io mi occupo di un mondo come si è detto open source questo penso non vi avete capito e di interlocabilità per cui stiamo per far partire un progetto di sviluppo di librerie per l'accesso al formato allo standard open xml all'interno del contesto della nostra università con un dipartimento che è particolarmente specializzato negli aspetti documentali poi ci sono delle altre iniziative meno relevanti in termini di visibilità in genere con l'università ci sono parecchi progetti ci sono delle realtà che si chiamano Microsoft Innovation Center centro di innovazione ne abbiamo uno in questo momento già aperto a Torino e lì trattiamo sistemi all'interno di collaboriamo insieme sia con risorse che con software per lo sviluppo di sistemi per robot piuttosto che per per esempio con la Fiat per la Fiat Torino è particolarmente partner di Fiat per il controllo delle automobili poi abbiamo dei progetti con l'università di Trieste in regione FU di Venezia Giulia in quel caso lì siamo sul campo della telemedicina e della logistica integrata sono i campi di applicazione che stanno usando adesso con il Federico secondo in campagna a Napoli faremo un altro Microsoft Innovation Center quindi degli investimenti economici e di risorse umane oltre che licenze software che è il minore di problemi da porre in essere questi sono la ricerca applicata esempi di ricerca nei limiti della definizione che sto per darvi applicata poi Microsoft ha un investimento molto significativo in un dipartimento di ricerca molto grande complessivamente noi ricerca e sviluppo l'anno scorso abbiamo investito 7 miliardi di dollari di cui vi posso dire 3 miliardi di dollari erano puri per la ricerca pura non applicata scusate il listice di parole un esempio in Italia di progetto di ricerca o di collaborazione su ricerca pura è l'esempio dell'Università di Trento dove stiamo lavorando per offrire supporto tecnologico specificatamente a dei modelli a degli algoritmi di analisi nel campo delle ricerche di biotecnologia che questa università sta facendo noi abbiamo un altro centro importante Microsoft Research a Cambridge ce ne sono altre sparse nel mondo e ci sono vengono continuamente variate nell'ambito della ricerca pura quindi nei canali voglio dire tradizionali non sono competenze delle filiali ma neanche di Microsoft Corporation intesa come la filiale che ci occupa di sviluppare il software tradizionale vengono variate eventuali richieste di collaborazione tipo attraverso Trento è riuscita voglio dire a collaborare con la Microsoft su questo tema attraverso pubblicazioni su delle riviste tipiche del mondo scientifico ci si è conosciuti chi da noi Eric Rashid è un fisico molto importante che è responsabile della nostra ricerca e ci sono quindi anche questo tipo di iniziative in merito a cos'altro voglio dire con l'università di Bologna possiamo sviluppare in futuro dal mio punto di vista per esempio visto che mi occupo di interoperabilità e della parte di Microsoft che cerca di rendere i propri sistemi particolarmente funzionanti con il mondo dell'open source anche perché non la realtà esiste nel mondo dei server prima è stata citata Google il 20% dei server non che sono usati in modalità di impresa sono server basati su alcune distribuzioni di virus poi guarda caso quelle più commerciali nel senso che sono tranne il caso di Google o di altre aziende che hanno la possibilità economica di sostenere grossi gruppi tecnologici a loro interno la maggior parte usa Reddit e parzialmente lo vedo e tecnologie poi tipo J-Boss McSQL quindi commerciali che hanno una natura anche commerciale di Microsoft noi possiamo visto che siete particolarmente attivi e interessati nel mondo dell'open source io sono assolutamente disposto a sviluppare delle collaborazioni con voi con i vostri docenti e personalmente anche dei progetti come adesso abbiamo iniziato con lo suo OpenXML possiamo benissimo voglio dire pensare a qualunque tipo di forma il punto è non è che ci possiamo sognare da soli questi progetti ma ci aspettiamo che l'università che normalmente è un centro di pensiero proponga a un'azienda qual è la Microsoft e questo tipo di tematiche e poi se ne vediamo che cosa si può sfruttare questo fa parte del lavoro che facciamo di dire Allora farei una domanda a tutti i soldatoli dipendendo anche sull'intervento di prima su quelli che hanno definito i costi buoni e i costi cattivi del pagare licenze o comunque investire soldi in software sicuramente la sua la sua argomentazione non è sfuggita agli amministratori o comunque a chi deve scegliere deve fare le politiche economiche deve fare le decisioni di acquisto di uso di acquisto delle licenze come mai allora si dà la parte da un software gratuito in un certo senso un software che comunque si sviluppa localmente come mai il software open source è ancora così poco utilizzato come mai i vantaggi economici di questo tipo di software non hanno portato una posizione predominante sul mercato ci sono due effetti importanti di questo il primo il motivo per cui ammelo di più la microsoft è per il marketing sono molto bravi nel marketing e riescono a creare situazioni per cui riescono a comparire solo loro e a escludere dalla vista il resto dei possibili sistemi se in un libro di scuola ci fosse presente solo il cruscotto della Fiat appunto per insegnare a guidare immediatamente sorgerebbero oltre i contestatori dicendo questa pubblicità sui libri di testo anche il fraintendimento che c'è sulla parola informatica generano un sacco di guai perché informatica è uguale al spettatore pensiamo all'università di là dei rami scientifici l'informatica viene insegnata come una patente europea intanto vi assicuro che europea non è perché andate in giro per l'Europa chiedete al massimo in Inghilterra sanno qualcosa tipo che fa una cosa simile che serve solo per usare quattro programmi e quella è l'informatica è come dire la matematica è l'uso di una calcolatrice da questo scattorescono tanti errori fra cui quello di dire scrivere programmi è una cosa difficilissima è un fatto è una cosa difficilissima state attenti voi dovete fare gli spettatori non osagate scrivere programmi è difficile ma come? no assolutamente è vero che alla fine l'ultimo teorema di Fermat è difficilissimo da dimostrare ma si basa sulla conoscenza dobbiamo salire sulle spalle dei giganti per salire sulle spalle dei giganti ce ne insegna Galileo Galilei come si fa Galileo Galilei dice bisogna pubblicare esperimenti ripetibili in modo che tutti conoscano come si fa e allora facendo così facciamo avvenzare la scienza è l'unico modo qui si sta nascondendo conoscenza e sempre di più pensate ragioniamo insieme quali sono le grandi innovazioni in campo informatico il personal computer nato nel garage di casa da George e Wolf Wolf e Steve Jobs il web l'ha inventato Wams no l'ha inventato Tim Barnes in Europa prendiamone tante altre l'idea è che noi liberamente facciamo una vera innovazione loro ci mettono le icone le icone come si chiamano animate le schermi tridimensionali vedo le icone tridimensionali l'ottimismo venga la risposta alla domanda cioè la diffusione del software di sviluppo non c'è questa diffusione perché le persone non lo conoscono non hanno un modo di amicinarci e quando si fa una posso chiamarla dittatura di mercato e qui c'è il ministero della propaganda e quando le persone non lo sanno arrivano a casa prendono il pc che va così i bambini sono tutti convinti che quello sia l'unico universo possibile e quindi arrivano e dicono gli mettete davanti una cosa diversa che magari pensiamo a a norma che hanno venuto dall'antibes che da basso cosa è che schifo no? e quindi e si insegna i ragazzi che l'informatica è qual è io non so passare affermo pubblicamente che non sono capace di passare all'esame della patente europea per il procuratore questo dovrebbe dire la lunga sarò il più scarcinato dei docenti di informatica d'italia però qualcuno in un concorso pubblico ha detto tu sei professore quindi c'è qualcosa che tocca in tutto questo e quindi la risposta c'è perché non si usa perché non si conosce le vedi se andate dall'impiegato di segreteria a dire guarda che ti cambiamo le cose ottenete una rivolta sindacale e allora per diciamo quieto vivere si continua così quando invece si potrebbe risparmiare tantissimo pensiamo lui dice vi regaliamo software vi regaliamo tutto quanto costa quello che vi regala zero io vi regalo software io vi regalo tutto il sistema operativo vi regalo open office vi regalo esattamente come lui con la differenza che quello che vi regalo io non solo io tutti noi potete guardarlo modificarlo distribuirlo quello che vi regala lui dovete fermare il non disclosure e guai a voi se ne parlate in giro quindi tra l'altro come come istituzione pubblica ritengo molto forviante che noi mettiamo degli investimenti nostri tempo dei nostri docenti per fare delle cose che non siano fruibili da tutti perché facendo così secondo me io a meno con la mia coscienza non sarei molto d'accordo a dire spendere il mio tempo e che ci guadagni una ditta una no per carità io sono pagato dalle tasse degli italiani e quello che faccio lo devo dare a tutti è proprio per questo che non non si diffonde perché non c'è non c'è conoscenza poi ci sono vari fenomeni all'interno dell'università degli enti il fatto della massa una volta si diceva nessuno mi licenzerà mai per avere le recette IBM adesso si dice nessuno mi licenzerà mai per aver scelto Microsoft perché se uno fa una scelta fuori dal cuore e qualcosa è distorto succede finimotto se uno sceglie Microsoft e durante la presentazione a Comdex fa lo schermo blu davanti alla presentazione di vista dice Dear man e invece scrive Dear art quello funziona probabilmente perché sbagliano tutti seconda cosa spendo euro sum in università negli enti pubblici se uno va e dice ho speso 7 miliardi 8 miliardi anche qua abbiamo tirato fuori investimenti cifre numeri è una sorta di misurazione metrica dell'attività se uno riesce a fare la cosa utilizzando conoscenze magari spendendo meno addirittura viene meno quotato come tipo di investimento come se ci fosse l'equazione costa meno vale meno allora questi si mettono di impegno per fare cose che costano tanto e i fornitori ovviamente sono ben felici di dare cose che costano tanto la transizione risulta problematica perché perché sia ci sono state delle scelte a monte per rendere la problematica oggi parla di OpenXML ma ricordatevi che ci hanno mattellato col doc per anni e tutti sono stati portati a pensare ancora adesso mi arrivano i verbali del consiglio di amministrazione in doc che è uno scandalo perché ha formato il proprietario chiuso allora chiedere che dall'oggi al domani l'agnello il lupo diventi agnello mi è risultato un po' problematico tant'è vero che tant'è vero che uno standard esiste già e si chiama OSI 26% se ricordo bene che si chiama altrimenti detto open norme OSI open standard quindi quello standard internazionale conosciuto a loro non va bene perché perché non fa ma intanto implementa quello per rendere interoperabile no loro vogliono il loro standard perché perché con il loro standard hanno il primato sul mercato prendiamoci conto non c'è differenziazione qui siamo di fronte a una metastase centrale che tutto quello che tocca vuole inglobare o si cambia modo di pensare oppure siamo a libertà e dopo questo concerto lo esprimiamo meglio Sì immagino che il pubblico abbia voglia di fare domande quindi io direi di volerci verso la seconda parte qual è l'ultima domanda per Paolo Bucardano ma anche lui 10 minuti per ah cosa risponde come rispondere come preferite io per me ci sono moltissime informazioni che non abbiamo informazioni non ci dare spazio a noi ci si arriva a nessuno una platea così importante di persone può raccontare quello che vuole no no chiunque può raccontare quello che vuole giusto le altre persone dall'altra parte si faranno un'idea sulla base di quello che le persone raccontano però se c'è solo una voce che racconta una cosa non c'è questa possibilità di scelta che guarda caldo mi sembra essere alla base di ciò che con cui è partito il discorso ma appunto no io le dico che a parte che personalmente in questo momento mi chiamo Piertolo Bucardano ho un'esperienza inventando in Microsoft nel mondo del software anche in altre aziende e poi sono un cittadino italiano che ha anche qualcosa da dire se preferite non ho il blasone del professore però magari guardate l'altro tema che volevo dire è non le domande tanto è inutile chi di voi vorrebbe chiedere qualcosa perché dissento da molte informazioni in quanto limitate nei contenuti o errate io vorrei mantenere un'ordine in questa discussione ma non è una discussione io rispondo alle domande volentieri un po' di che lasciamo la discussione alla fine io vorrei fare questa domanda per poi poter trovare un altro punto ok grazie allora alcuni punti molto 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 veloci il software sviluppato da un'azienda che si chiama Microsoft questo perché si chiama il software è così complicato che non può essere sviluppato da singola società quindi la Microsoft sviluppa il software collaborano con moltissime altre aziende altrettanto voglio dire conosciute in certi casi aziende piccole ma che hanno particolare capacità innovativa nell'idea piuttosto che nell'implementazione dell'idea se il software non costasse niente ok non ci sarebbe nessun problema voglio dire a pensare che un'economia di cui parlavamo prima quindi un modello aziendale potrebbe essere impostato su altri parametri 7 miliardi di investimenti di ricerca e sviluppo che sono solo un pezzo perché poi ci sono altri componenti evidentemente rappresentano un costo questo per dare un'idea del fatto che evidentemente il costo di un software esiste per chiarire alcuni punti poi nessuno di noi io personalmente come individuo pensa che la conoscenza non debba essere di tutti ora però poi portiamo tutto all'ordine pratico di ogni giorno io posso decidere che per costruire un edificio al di là delle competenze di ingegneria strutturale o alle capacità di ergonomia voglio dire di soddisfazione delle necessità del individuo del individuo che poi ne usufruirà anche nei materiali posso decidere di partire da sabbia e da altri materiali disponibili a tutti gratuitamente posso che gratuitamente mi chiamare a passoposto e arrivare a costruire una casa oppure posso decidere attraverso la tecnologia che fin dall'epoca voglio dire dell'uomo primitivo ha un senso quindi indicazioni di determinate competenze per creazione di strumenti di arrivare a creare per esempio un edificio attraverso dei prefabbricati degli elementi prefabbricati scusate per esempio quei grandi pannelli che si usano tipicamente per costruire sia le solette che le facciate di edifici su questi sono già stati fatti ricardi sono già state fatte delle lavorazioni quindi significa che nel momento in cui io che produrrò l'edificio finale e avrò il mio ritorno dal prezzo più o meno congolo questo è il mercato in un'economia come quella nella quale viviamo oggi almeno in Italia determinerà se è valido o meno la mia offerta evidentemente mi sarò fatto adeguatamente i miei conti per valutare che il tempo che vado a mettere nel costruire il palazzo attraverso i prefabbricati con i canali di sicurezza e di ergonomicità che vengono richiesti rispetto a che partire dalla sabbia mi è più favorevole mi renderà più competitivo nel software si ha lo stesso problema cioè col software si può fare tutto cioè ciascuno di noi se studia se sta a studiare in un'accademia io non ho mai contestato il fatto che un'università per esempio insegnassero partendo da Unix perché Unix e determinati linguaggi costringono a ragionare a sviluppare dei processi mentali che poi diventano rilevanti nel momento in cui utilizzo degli strumenti invece più sofisticati nel senso composti da tanti altri blocchetti in sotto che però rendono la vita più facile cioè permettono di arrivare più alla vita al risultato finale perché credo che sia il corretto approccio perché nel momento in cui io devo affrontare un problema del risultato finale fatto dai vari blocchettini immaginate il Lego ok come se il software esistesse chi fa Lego da zero poi chi usa Lego per fare la soluzione finale che un'azienda richiede o che un individuo richiede e guardate che sono molto complesse le soluzioni finali c'è un problema della soluzione finale ci sarà qualcuno che analizza la problematica rispetto a ciò che ha aggiunto come valore quindi per esempio per un'impresa so come lavora l'impresa so come ho implementato le logiche di programma avrò a capire che non è il problema e nei blocchettini probabilmente sì ma io non so guardare dentro i blocchettini quindi ho bisogno di qualcuno che guarda un posto mio nei blocchettini allora se c'è questo meccanismo in cui trovo vantaggio nell'essere io da solo a fare come dire la risoluzione del problema al livello dei blocchettini è chiaro che devo partire a studiare fin dai blocchettini devo vedere anche il sorgente di quei blocchettini il sorgente di implementazione dell'idea delle metodologie non è nient'altro non è la formula perché guardate sui bugiardini c'è scritto la lista di ciò che contiene ma non c'è scritto con che formula conti insieme di formula e le molecole poi sono sintetizzate non so se questo è chiaro cioè voglio dire penso di sì ed è la differenza per cui io posso decidere che voglio farmi tutto da me ma posso anche decidere che invece mi fido di chi ha costruito quei blocchi e pretendo da chi ha costruito quei blocchi magari perché quando li ho acquistati mi ha garantito che avrebbe dato un servizio del genere dire risolverai i problemi perché l'insieme di queste logiche la sinergia di più entità con differenti specializzazioni portano a un risultato che io trovo più economicamente conveniente che fare tutto da me sempre e comunque e gli aziende finali o il cliente finale io che sono maggiore finale posso fare le scelte sulla base dei costi benefici e del valore che mi ha deterto e ogni volta vi faccio questo rinforamento quindi da questo punto di vista non mettiamo nessuno di noi mette in discussione che conoscenza significa anche poter conoscere come un algoritmo implementato ma la domanda è tutti noi possiamo permetterci nel modo in cui viviamo di specializzarci su quell'elemento e poi chi è che va a capire come in un'azienda si lavora per implementare dove troviamo il tempo per capire come un'azienda lavora per implementare quella soluzione che l'azienda determina alla fine questo è un punto sui processi di innovazione guardate che l'informazione è relativa al fatto che un'azienda come la Microsoft prende le idee degli altri poi le capitalizzi prendono le edifici solo lei e poi chiudendo il mondo questo non porta mai a innovazione l'Oxarro Spark ha sviluppato nell'epoca a cui faceva riferimento il professore l'interface a un centro di ricerca per cui si presume che un centro di ricerca possa essere soluzionato per fare una ricerca e si studiava un modo di interagire con un computer molto più simile al comportamento umano nella futica quotidianità cioè qualcosa che tipicamente implica delle analisi di natura sociologica psicologica di confronto rispetto ai comportamenti per le quali non tutti sono disposti a pagare però costa e alla fine se voglio ottenere il risultato che vogliamo ottenere qualcuno ha investito Apple è stata la prima a ispirarsi a risultati pubblicati da un centro di ricerca quindi che non aveva una natura commerciale per poter sviluppare un'interface a riferimento di confronti di clienti ma è quello e poi ha preso il software l'ha messo sull'outdoor e ha vissuto per tutta la sua vita in chiuso adesso con iPod con iTunes e con la musica su ciò che nascondeva all'interno o della scusate sul software che però non era la chiave di ritorno principale per Apple perché era Apple e ha fatto pagare per molti anni si è potuta permettere di far pagare per molti anni un Apple molto chiuso dell'initato che certo funzionava bene certo apparentemente aveva meno baghe di altri problemi ragazzi era progettato in due modi erano quelli lo controllava Apple non poteva arrivare nessuno a dire scusa posso mettere la scheda video che ho progettato io che penso che posso fare di più e magari più a costo Apple un certo compasso strato ha detto no chiuso questo è un altro modello di business commerciale oggi Apple non può più farlo con l'hardware perché nel frattempo altre aziende sostenute da aziende di software che invece si preoccupavano di creare del software che accettasse più diciamo flessibilmente possibili contributi hardware esterni hardware e software poi nell'altro oggi c'è anche il software il firmware aveva poi il prodotto di un altro mercato quello del PC la ricerca su questo ambito che costa molto è il fatto che noi prendiamo dalle periferiche usb di qualunque natura le attacchiamo e funzionano subito non è una macchina costa un sacco di soldi mettere insieme 450.000 aziende al mondo che producono device di grande natura e farci che parlano tutti la stessa lingua tale che poi ci capiamo e il cliente vede un'esperienza facile e poi nell'andare avanti ha implementato un modello di soldi un modello di business in cui oggi vende contenuti mascherate software mascherate all'interno di un oggettino che si chiama iPod che noi paghiamo se voi mi chiedete quanto costa letteralmente le cose non costa 230 euro ne costa di più ok ne costa di più la ricerca è tutto ciò che ci indico a impiegare ancora degli anni io ve lo posso dire per l'Xbox quanto compriamo l'Xbox non stiamo parlando non stiamo parlando di un'intero prezzo dell'Xbox lo sviluppo lo sviluppo lo sviluppo dell'ecosistema locale di cui città Microsoft è un'azienda che nasce in America ma non ha filiale in Italia però noi facciamo solo software ci sono tantissime altre aziende intorno a noi che prendendo i pezzi di Lego che noi facciamo perché noi facciamo pezzi di Lego cioè non ci occupiamo di creare i prodotti finali facciamo solo di Lego mettono insieme i pezzi di Lego evidentemente in maniera conveniente dal loro punto di vista tale che riescono a a vivere se vi dico i numeri voglio dire dell'economia del software in Italia per ogni dollaro che è per ogni euro che arriva nelle tasse del conto economico della Microsoft Italia gli analisti che fanno questo mestiere aziende di ricerca in un certo spessore internazionali i dici bisogna prendere dei riferimenti dicono che sul mercato italiano le aziende che vivono di tecnologia IT information technology ne rimangono 15 di euro questo solo per dire come un approccio in cui faccio tutto io sicuramente è corretto porta i soldi da un'altra parte non sviluppo niente e vi è dicendo e a limite ho i dipendenti da me sono tutto uguali un altro approccio io faccio pezzi di software e poi gli altri li usano per creare le soluzioni finali e vendere servizi e vivere servizi ad oggi ha portato a questa economia un euro di regno 15 per in Italia abbiamo circa 65 mila aziende che vivono usando la tecnologia Microsoft per fornire servizi o software ad altre aziende infine l'ultimo punto è gli standard allora un open standard è qualcosa che è stato definito sì sì lascio un open standard è qualcosa che è stato disegnato da qualcuno o da un insieme di entità ceduto a una terza parte non commerciale che può quindi garantire la fluidità di questo standard quindi il protocollo di un insieme di regole a chiunque ne voglia far uso per poter dialogare probabilmente con chiunque altro non faccia uso non ci sono degli oneri economici nel farne uso o non necessariamente perché in alcuni casi comunque è stato il fatto che qualcosa sia open standard non necessariamente significa che non debbano essere pagate dei prezzi open standard significa che l'azienda che ha collaborato o che magari da sola ha creato quel formato e che qualcun altro ha certificato delle caratteristiche per poter diventare uno standard qualcun altro si parla di ISO di ECMA non chiunque ma che l'azienda vuole e fallisce succede lo standard continuerà a essere per questo altro disponibile allora questo è un open standard Microsoft fino a Word 2003 non ha adottato come formato per attivare le proprie informazioni un open standard qualcosa che era depositato ma quello che è accaduto è che il proprio formato è stato utilizzato da così tanti altri soggetti che creavano software non solo da soggetti fruttori cioè il Docker non era nascosto il Product Support Microsoft cui io facevo parte nel 89-90-91 la cosa che più veniva richiesta dalle società italiane nera mandate la descrizione del formato binario DOC e XLS e sono lì e sono attivati li troverete su Itapa su bloggeresti di Itapa su VPS cioè sempre c'era soltanto che l'avete raccomando e non l'aveva ceduto a ISO per cui non potrebbe essere considerato un open standard e diventato uno standard de facto come tanti altri formati sono successi allora scusate nella declinazione della discussione su cosa è Open DOC Open DOC probabilmente poi il professore per il finimento dell'imprimizzazione di altri standard che oggi in modo di resource per la formata documentale sul mio uso ODF c'è soltanto da dire uno standard deve essere unico o possono esserci differenti standard quindi standard abbiamo definito così Open Standard disponibili perché guardate che non tutti i standard soddisfano tutte le esigenze e il processo per estendere uno standard per implementare tutte le esigenze non è detto che sia più conveniente di qualcuno che ha creato una serie di aziende che si sono riunite hanno creato un altro standard che poi è diventato Open e disponibile a tutti altrimenti chiedetevi perché il PDF è uno standard che viene usato depositato serve a rappresentare le informazioni come Open XML come ODF ognuno è specializzato in certi anni che nel campo dell'immagine sapete quanti sono gli standard disponibili più di 45 è inutile che vi facci nomi li usiamo tutti i giorni i JPEG gli MPEG i JPEG fanno tutti più o meno le stesse cose con delle specializzazioni diverse depositati quando sono depositati li mettono a testandolo ok allora concluderemo la prima parte e dalle spazio invece alla domanda pubblica